Stasera è l'ultima serata utile, dopodiché da domani si chiude tutto, quindi stasera coca e mignotte fino a mezzanotte. Abbiamo avuto anche io e il ministro della salute un lungo confronto, l'interpretazione ragionata dei dati abbastanza chiara ci ha determinato a intervenire. Il governo si è dato un obiettivo chiaro, da domani si chiude tutto, quindi stasera coca e mignotte fino a mezzanotte. Su tutto il territorio nazionale è ovvio, un po' lo consente di festeggiamenti, connesse a cerimonie civili e religiose. Incentiviamo ulteriormente il ricorso a coca e mignotte, che per adesso c'era il limite di 30 persone. E loro comandiamo fortemente per quanto possibile anche nelle aziende private e comunque al di fuori di palestre e piscine. Ce l'abbiamo fatta, allora ce la faremo anche adesso. Grazie. La conferenza stampa è terminata, grazie a tutti.